Perché ho scelto proprio Seven Changes? Perché può simboleggiare una tipologia di film che può anche essere accostabile ad altri due titoli come The Navigator e Steamboat Billy Junior che partono in modo un po' fiacco, lento, impacciato, noioso, prevedibile, stanco, per poi crescere di intensità e svilupparsi nel loro picco anche di coinvolgimento spettatoriale nel climax. Infatti in questi tre film rimangono le scene a tre quarti del film, tutte le sequenze diciamo che compongono la parte finale. La lotta in The Navigator contro gli indigeni, in Steamboat Billy Junior, l'uragano appunto che si abbatte e tutte quelle scene anche un po' oniriche di stampo chitoniano e nel film che ho appena descritto la rincorsa a tutte queste donne che in modo suggestivo appunto inseguono Buster. Quindi ecco, ci mostra anche sul piano concreto la rappresentazione di quello che Keaton avanti con gli anni da anziano aveva detto rispetto appunto ai film. E' meglio fare un secondo tempo di qualità che rimanga impresso allo spettatore, visto che è difficile far ridere per la durata, ecco, tenere alto con costanza il livello qualitativo per tutta la durata del film. E quindi è preferibile una prima parte così così e invece una seconda parte che rimanga proprio impressa nello spettatore e che quindi possa condizionare il giudizio finale di un film. Perché sinceramente se non ci fosse stata la scena, cioè la sequenza conclusiva, Seven Chancese sarebbe stato un film anche piuttosto mediocre. E così anche The Navigator e Steamboat Billy Junior. Invece i film accrescono il loro valore per questo escamotage riuscitissimo da parte di Keaton. Invece i film accrescono il loro valore per questo escamotage riuscitissimo da parte di Keaton. Invece i film accrescono il loro valore per questo escamotage riuscitissimo da parte di Keaton. Grazie.